Degrado e indecenza, sono queste le parole che regnano alla stazione di Santa Palomba. Rapporti sessuali consumati alla luce del giorno, prostitute mezze nude nonostante il freddo pungente. Ma è di notte che la situazione precipita. Proprio per scaldarsi dal freddo, le ragazze accendono dei fuochi con materiali di fortuna. Il rischio, ogni volta, è che la situazione possa sfuggire di mano. Quello che però fa rabbrividire è che tutto questo avviene davanti le abitazioni, accanto a una stazione ferroviaria e peggio ancora, a fianco di un campo sportivo dove giocano bambini, anche piccolissimi. Rappresentando le migliaia di pendolari che abitualmente frequentano la stazione di Pomezia, pendolari che arrivano da Pomezia ma anche da Albano Laziale, da Ardea, Castel Gandolfo, Ariccia, nono municipio di Roma, frequenta abitualmente un contesto insicuro e di degrado urbano. Atti vandalici, danni delle auto parcheggiate, furti, tentate rapine e poi il fenomeno della prostituzione e quindi che esercita indisturbata a qualsiasi ora del giorno e della notte. Noi quello che chiediamo come pendolari è un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine che sia di contrasto e di dissuasione di questi fenomeni che purtroppo dobbiamo subire frequentemente, direi anche quasi quotidianamente. Le prostitute, d'altra parte, all'inverno fa freddo e fanno fuoco, fanno fuoco e bruciano di tutto. Bruciano come abbiamo visto, laminati, poi ruivano l'asfalto. All'amministrazione che abbiamo chiesto, intanto un pattogliamento di questo tratto di Serra Lardatina, dei vigili urbani dove già adesso Carabinieri e Polizia in effetti hanno intensificato questa cosa. Addirittura poi c'è un decreto un po' particolare anche per la stazione dove c'è un bel po' di movimento di persone e lì addirittura hanno richiesto l'esercito. Diciamo cose soltanti che si potrebbe fare, metteranno qui un marciapito con le luci, con le telecamere, quindi tutta una serie di cose. I bimbi cerchiamo di tenerli a riparo, vedono signorine seminude che sono sulla strada. Mi sono messa ad appendere striscioni e manifesti per tutte le strade del territorio con un messaggio agli utilizzatori finali, cioè ai clienti delle prostitute. scritte messaggi di questo genere, queste donne possono essere tua madre, tua sorella, tua figlia, non fermarti. Come abbiamo visto una soluzione a questa terribile piaga ci sarebbe e non si tratterebbe neanche di soluzioni tampone o semplicemente temporanee. In sostanza la possibilità di cambiare una volta per tutte la stazione di Santa Palomba ci sarebbe. Grazie. Grazie. Grazie.